carico nazionale residenti in italia stimati colleghi italiani in qualità di membro del gruppo di amicizia italo armenio dell'assemblea nazionale dell'armenia vorrei informarvi sulla situazione in armenia al confine tra alzac e azerbegiano nella prima mattina del 27 settembre l'azerbegiano ha attaccato lungo l'intera linea di contatto tra alzac e azerbegiano vengono utilizzate le armi e le munizioni più moderne questo diventa particolarmente pericoloso dal punto di vista della partecipazione della turchia alla stessa turchia che cento anni fa ha organizzato e realizzato il genocidio delle armeni massacrando brutalmente più di un milione di armeni davanti gli occhi del mondo che fino oggi resta impunita cioè tanto più importante perché il mondo cattolico guidato da papa francesco ha più volte affermato il pericolo di negare il genocidio e la turchia come membro della nato lo neca inoltre oggi sta progettando un nuovo genocidio questa volta con le mani di azerbegiano l'italia che anche membro della nato dovrebbe intervenire e condannare fermamente la partecipazione della turchia al conflitto arzac azerbegiano inoltre deve condannare la politica aggressiva dell'azerbegiano che ha fatto di tutto per allontanarsi dal processo di pace seminando odio nei confronti del popolo armeno iniziando dai loro asili fine alle anziani spero che l'amicizia legame storico culturale millenaria tra i nostri due paesi vi farà concentrare sul nostro piccolo bellissimo ma allo stesso tempo infrangibile paese nei questi tempi difficili porteremo insieme la vittoria della democrazia contro la dittatura dio benedica l'armenia e l'italia grazie grazie a tutti